Due medici sono iscritti nel registro degli indagati e l'Ulsuno Dolomiti ha aperto un'inchiesta interna sul decesso di Gianfranco Alberti, un 79enne di Cortina d'Ampezzo, morto il 19 agosto poco dopo il rientro a casa dall'ospedale di Belluno. L'uomo era stato ricoverato al reparto di cardiologia del San Martino, dove per dei problemi al cuore era stato sottoposto ad un intervento con posizionamento di stent. Dopo giorni di degenza era stato dimesso ed era da poco rientrato a casa. L'autopsia effettuata all'obitorio di Belluno, dove oltre al medico legale incaricato dalla procura erano presenti i consulenti della famiglia del 79enne e dei due medici coinvolti, ha stabilito che la causa del decesso è un emotorace da dissecazione aortica. Ora il compito dell'autopsia sarà anche quello di chiarire se durante il ricovero si potesse capire l'esistenza di quel problema. Un aspetto questo per cui i tempi di risposta saranno sensibilmente più lunghi.